Saluto la mia famiglia, tutti gli amici che stiamo ascoltando e basta. Ok, come avete trovato? Voi che eravate già stati qui all'Avino 5, come vi sembra? Migliorata, peggiorata, uguale, stabile? Non vi ricordatevi. Cioè, il tavolo tondo mi sembrava. Ok, è cambiato diciamo un po' l'organizzazione, però è sempre meglio partecipare. Sempre meglio. Ok, va bene, allora grazie ragazzi, intanto andiamo con, adesso ci ascoltiamo un altro dischetto della nostra amica Atena Baulus che è qui di fianco a me. Vai Atena. Buongiorno a tutti, buongiorno. Cosa vuoi raccontarci? Cosa ci racconti? Cosa succede a Robigo? C'è già la nebbia? Robigo non mi dirigo? Oh, qualche mattina sì, però le cose più interessanti ve le racconto dopo. Va bene, ho visto che hai messo dei post che sei contenta che non c'è più l'estate. Io invece sono triste perché a me piace l'estate, il caldo, le zanziale tigre, no, quelle no. No, anche una bellissima ospite che hai avuto qualche tempo fa, mi diceva che io sono comunque una creatura invernale. Chi è? Una ospite che ho avuto qualche tempo fa. Ah, sì, la... Aspetta che adesso ho un vuoto di memoria. Bellissimo, adesso, adesso troviamo il nome, ti domando scusa se sei una bellissima ragazza, adesso ti trovo il nome e ti giuro me lo cerco. Esatto. Però mi ricordo quello che mi hai detto, io non sono una creatura estiva. Va bene, non c'è una creatura estiva e adesso ne ho mai ascoltarci il tuo disco che si chiama All Your Love, giusto? All Your Love. Come mai si chiama così? Te lo chiedo sempre ma te lo chiedo. Perché non ne ho più, lo metto qui che mi amore, io non ne ho più, non è Fazz. Vai, allora ragazzi, te la punti di decidere. Eh, grazie. Va bene, dai, All Your Love, Atena Maurus, con i nostri amici Fazz, non i Fazz, mi avete detto, vero Marco? No, non i Fazz, ma Fazz. Fazz, quindi senza... Scusate, ma a volte mi viene smaltato, quindi... Con i nostri amici Fazz, portatevi a te la prima volta in studio, Atena Maurus, per la gioia degli ascoltatori, quindi se volete dire la vostra, scriveteci al 349-7267-647 ed anche al 334-7102-672. Se invece volete chiamarci qui in studio, 049-700-700 e 049-708-38. Andiamo con All Your Love di Atena Maurus che è qui con noi in studio, va? Yeah!